Rieccoci con i pre-partita in formato video ragazzi, perché ultimamente tra un imprevisto, la Super League eccetera eccetera, abbiamo fatto i pre-partita a ridosso dei match in live qua su YouTube, quindi magari tanti se li perdevano, anche se devo dire andavano molto bene queste live, perché essere in 300, in 400, costanti, tutta la live, due ore prima della partita, in maniera improvvisata senza neanche dirlo, non è da tutti, insomma tanta roba, mi fa molto piacere questa cosa qui. E vuol dire che siete una community molto fidelizzata, molto curiosa, interessata al calcio come lo trattiamo qui e quando vedete la notifica del canale accorrete video o live che sia perché volete dire la vostra, perché volete ascoltare, perché volete chiedere, insomma mi fa veramente molto piacere. E a proposito di notifiche, ricordo a tutti quelli che non guardano, anzi che non guardano, che guardano i video molto spesso, ma che non sono iscritti, di iscriversi al canale perché così non vi perdete questi video, queste live. Come per esempio l'ultimo video che ho fatto, quanti di voi, sinceramente, quanti di voi si aspettavano che io due giorni fa facessi un video su Excel di 30 minuti sugli stipendi dell'Inter e come fare con rinnovi e svincoli non rinnovi per arrivare a giocatori esosi eccetera eccetera. Ovviamente non vuol dire che quelli arriveranno, ma era un modo per farvi capire come funziona e questa roba mi fa morire dal divertimento, ma io mi diverto a fare questi tipi di video qua, perché è un fantasticare ma con la testa, cioè ragionando per come possono veramente funzionare le cose, quindi è tanta roba. Anche perché in realtà poi molti di voi capiscono come funzionano certe situazioni e grazie a questi strumenti riescono a farsi una propria idea, riescono a farsi un proprio piano, un proprio progetto di come vorrebbero l'Inter in maniera sensata e ragazzi, oh è tanta roba, c'è poco da fare, è così. C'è anche chi ci ha scritto tesi su questi video che faccio, ho ricevuto almeno 7-8 persone l'ultimo anno e mezzo che hanno fatto la tesi su questi argomenti, questa cosa, e mettendomi anche magari nei ringraziamenti, c'è una cosa ragazzi, siete pazzi, siete totalmente pazzi. Comunque, Crotone e Inter, partita da non sottovalutare, perché? Perché sapete queste squadre che sono quasi matematicamente serie B o sono lì in fondo, hanno giocatori che vogliono mettersi in mostra, perché magari non vogliono andare in serie B, vogliono essere ceduti o rimanere in A, danno tutto contro le big nelle ultime partite per farsi notare e per scroccare l'offerta per rimanere nella Lega. Per non scendere. E quindi danno l'anima, danno tutto quello che possono, corrono il doppio, insomma, c'è motivazione, no? Ecco. E quindi bisogna stare attenti. Io sono sicuro che Conte comunque starà attento, perché non è uno che sottovaluta l'avversario, è uno, anzi, il contrario, talvolta è così serio che non fa turnover anche quando bisognerebbe farlo, perché non vuole calare di un minimo, cioè è quasi eccessivo al contrario. A differenza, per esempio, di altri allenatori, per esempio, ieri ho visto United-Roma, e devo dire che lo United il primo tempo ha totalmente sottovalutato la Roma, si vedeva dai giocatori in campo, giocavano con molta sufficienza, ha fatto il gol Bruno Fernandes, che più di qualcuno poi mi ha scritto nei commenti, è andato a ribeccarsi i video fatti due anni fa, ma tu due anni fa ne parlavi di Bruno, guarda adesso è esploso? Eh, non so, però capite, ha fatto il gol e ha esultato in maniera molto sufficiente, molto così, come dire, ah beh, facile, guai fare così, perché sei comunque semifinale d'Europa League. Poi infatti nel secondo tempo è cambiata totalmente la partita, no? Quindi, capite, bisogna anche stare attenti. Partite che molto spesso guardiamo su Twitch, quindi mi raccomando, anche là, seguitemi, stasera live alle ore 21. E, tornando quindi a Conte, il problema è che lui, invece, facendo il contrario, non sottovalutando mai, in alcuni casi, sapete, ci sono giocatori che sono lì dall'affaticamento, sono un po' tirati, Varela, Brozovic, Lukaku, no? Che andarli a spremere è quasi rischioso perché li induci a cadere più probabilmente, con più statistica, con più probabilità, in un'infiammazione o affaticamenti strani. E poi questa cosa qua magari ti bloccano per due o tre settimane, non fai l'allenamento, vai fuori forma fisica, poi ci sono gli europei, e, insomma, ti scombinano magari i prossimi tre, quattro, cinque mesi di questa roba. Quindi bisogna stare molto attenti. Io devo dire che la settimana di stacco, la scorsa partita a questa qui del Crotone, potrebbe aver anche aiutato. Quindi magari Conte avrà anche gestito gli allenamenti in modo tale da recuperare un pochino alcune situazioni dubbie. Spero che sia così. In ogni caso io spenderei tutti i cinque cambi domani in maniera intelligente durante la partita e non al novantesimo per sgravare un po' di minuti a Brozovic, Varela, Lukaku, Hakimi, capisci? Lautaro magari, insomma, Lautaro può anche giocare tutta la partita volendo, forse. Perché è uno che viene spesso sostituito, quindi in teoria. Però ecco, lo farei. Per carità, anche altre volte fa cinque cambi Conte, ma non toglie mai alcuni. Cioè, Lukaku, Brozovic e Barella possono anche morire in campo, non li toglie mai. Quindi ecco, domani faremo strappo alla regola, onestamente. Perché Vessino può giocare al posto di Barella, perché Sensi può giocare al posto di Brozovic, perché Pinamonti e Sanchez comunque ci sono. Ha fatto anche degli elogi oggi a Pinamonti, quindi se gli ha fatto questi elogi, fammeli vedere se sono veri o no sul campo Conte. E poi c'è anche Darmia, ovviamente. Crotone col 3-5-2, modulo a specchio, modulo uguale al nostro, anche se è giocato in maniera diversa. Non è che... perché il 3-5-2 allora è come l'Inter. È giocato in maniera un pochino diversa. In ogni caso potremmo avere Brozovic più libero in fase di regia. E grazie a questa cosa, che ne viene marcato da un trequartista, Eriksen potrà essere un pochino più avanti. Io non lo vorrei vedere troppo basso Eriksen domani. Conte gli chiede spesso di arretrare e Brozovic va un po' più avanti, Barella ancora più avanti ed Eriksen poi risulta l'ultimo uomo più arretrato. Io lo capisco, cioè in alcune partite ci sta. Ad esempio contro il 4-2-3-1 questa cosa può funzionare bene. Contro un 3-5-2 non c'è bisogno, secondo me, di fare questa cosa. Ci sta che ogni tanto Eriksen venga anche a fare un po' d'accollante, a prendersi il pallone qualche volta, ma domani lo vorrei vedere tendenzialmente un po' fuori area, sul centro-sinistra, pronto a ricevere palla con le spawn di passaggi per metterla dentro per un inserimento, per un filtrante, visto che Crotone farà molta densità in mezzo, quindi gli ci vuole il passaggio un po' più intelligente. Oppure addirittura la sua mandorla, il suo tiro da fuori, la mandorlata alla Eriksen, quindi lo vorrei vedere un po' più lì, visto che Brozvic potrebbe avere più spazio in realtà, perché contro due punte che vanno a pressare il Crotone noi abbiamo tre centrali e un mediano, quindi non c'è bisogno che anche Eriksen venga giù, questo è il senso, a livello tattico. Quello che bisogna fare è arrivare a puntare i loro quinti, oppure, ancora meglio, andare dietro i loro quinti, cioè provare a prenderli in controtempo con un lancio in profondità, una diagonale, un filtrante, perché magari Perisic o Akhimi dall'altra parte vadano dietro al quinto e si è obbligato il terzo di difesa a uscire. E lì possiamo fare male, perché se esce il terzo, diciamo uno contro uno con gli attaccanti dentro l'area, contro i difensori del Crotone, con anche Perisic che potrebbe andare sul secondo palo, che è il suo forte, lo sappiamo. Quindi questo è un po' l'aspetto strategico che metterei in campo contro il Crotone. Cosa interessante è Simi, perché molti lo stanno citando ultimamente, molti dell'Inter, molti tifosi, come vice Lukaku, eh ma c'è Simi, a me non dispiace Simi, per carità. Lo trovo, come vice Lukaku, lo trovo un pochino scordinato e impacciato talvolta, però bisogna dire che sta vivendo un periodo di forma abbastanza importante adesso. Segna quasi in ogni gara, negli ultimi match del Crotone, e in area comunque è una calamita. Cioè sembra un polipo, ha le leve lunghissime, è un po' tutto un po' disassato, però alla fine arriva sempre sul pallone, e in area, in qualche modo, anche in maniera un po' brutta, goffa, la mette dentro, cioè ci arriva. Quindi bisogna stare molto attenti anche sulle seconde palle, le palle sporche, perché Simi è uno anche molto attento, ed è veramente psicologicamente molto molto in forma. Ed è uno tra quelli che potrebbe, dicevo all'inizio, potrebbe volersi mettere in mostra, e per rimanere in Serie A, chi lo sa, e quindi potrebbe fare magari prestazioni sopra la norma. Ecco, quindi attenzione, De Frey dovrebbe fare un bel lavoro in marcatura e in copertura domani, lì dietro. Potrebbe essere anche una partita da Ranocchio, a questa, però insomma, De Frey, De Frey, ovvio. Concludo dicendo che, proprio su Twitch, ho visto anche Lazio-Milan, quando è stato due o tre serie fa, non mi ricordo più, eravamo veramente in tanti, anche su Twitch cominciamo ad essere veramente in tanti, nelle live, quindi mi raccomando, seguitemi, perché ci divertiamo spesso, e Lazio-Milan è stata una goduria da vedere, a livello tattico, perché il Milan, è a livello anche, anzi, strategico, più che tattico, gestionale quasi, perché, come voleva si dimostrare, il Milan, come infatti dicevo, a dicembre, con tante prese in giro, subite, il Milan, una volta che ha perso delle certezze durante il cammino, è crollato, come l'Inter dell'epoca con Pioli, quindi il rischio che adesso il Milan vada addirittura fuori dalla Champions, è alto, abbiamo visto la partita, ragazzi, che nel primo tempo il Milan poteva essere già 2-3-0 sotto, se non c'era Donnarumma, faceva due miracoli, e attaccava in maniera scoordinata, una volta che hanno preso qualche imbarcata, poi hanno totalmente mollato, il secondo, il terzo gol, il Milan non tornava neanche in difesa, c'erano i giocatori totalmente anarchici, non tornavano neanche in difesa, sono totalmente smonati, si direbbe qui, c'è proprio, non so come dire, indolenti, non ci credono neanche più, quindi capite, insomma, è bello vedere anche queste partite, perché ti fanno capire ancora di più, come funziona il calcio, dal punto di vista tecnico, tattico, gestionale, strategico, ma anche emotivo, cioè agonistico, e questa è una cosa molto bella, che appunto in live riusciamo anche a vedere, quindi mi raccomando, non perdetevi anche qui i contenuti, chi può, perché meritano, non ho fatto la live ieri sullo United a Roma, perché non mi sentivo proprio benissimo, poi ha un po' anche periodo allergia a questo, quindi a volte sono un po' stanco, altista mince e tutto, però anche la partita di ieri United a Roma, era molto interessante da vedere, dal punto di vista tattico, nel primo tempo, e le scelte degli allenatori, vabbè, comunque dai ragazzi, io direi che ci vediamo domani, anzi, live stasera, Twitch, domani, per la partita ragazzi, domani post partita, come al solito, e mi raccomando, io spero di vedere questi cambi, spero anche di portare a casa la partita, così conta, poi è sereno, e magari nelle prossime partite potremmo vedere addirittura Radu, che non sarebbe male vedere un po' questo giocatore qui, ma è cresciuto, non è cresciuto, è veramente tanto acerbo, ha fatto bene nel Genoa, un po' così per sbaglio, oppure è un giocatore totalmente da scoprire, insomma, che può crescere, insomma, sono curioso, stessa cosa vale per Pinamonti, sono curioso anche lì, vabbè, ragazzi, forza Inter, ci vediamo stasera, per chi vuole, e domani post partita, per vedere come andrà, insomma, con te, mettici però, Vecino, Pinamonti, le voglio vedere, cioè, mettiamoci d'accordo. Grazie a tutti.